Qual è il miglior periodo per viaggiare nelle Filippine? Eccoci qua di nuovo a Palawan, Puerto Princesa, siamo tornati nella nostra casa in provincia ed è un'altra giornata di pioggia. Questa mattina a dire il vero c'era un sole bellissimo, ho detto ah finalmente dopo una settimana di pioggia non stop forse si inizia a vedere il sole, invece no, anche questo pomeriggio ha iniziato a piovere. Oggi voglio rispondere a una domanda che molti mi fanno e molte persone mi stanno iniziando a contattare per pianificare i viaggi nelle Filippine a dicembre, febbraio e comunque l'anno prossimo. Quindi voglio condividere con voi quando secondo me è il miglior periodo per venire nelle Filippine. In Italia abbiamo quattro stagioni, primavera, estate, autunno e inverno, mentre invece qui nelle Filippine abbiamo soltanto due stagioni, la stagione delle piogge e la stagione estiva, quella secca. Questa è la ragione per cui è molto importante pianificare propriamente il viaggio nelle Filippine. La temperatura è sempre abbastanza molto stabile, si aggira intorno ai 20-30 gradi, anche se comunque ci sono delle zone delle Filippine dove la temperatura si abbassa un po' di più, come Baggio, Tagaitai, il vulcano Mayon. In queste aree di montagna le temperature si possono abbassare anche a 15 gradi e alle volte anche meno. Nei mesi scorsi siamo stati sia a Baggio che a Tagaitai e comunque io non sono più abituato alle temperature fredde e la felpa me la sono messa, in particolare per dormire la notte avevo abbastanza freddo. E questo indipendentemente dalla stagione in cui siamo, sia nella stagione delle piogge che nella stagione estiva, in queste località le temperature sono un po' più basse. E se si vogliono visitare queste zone di montagna è molto meglio andare durante la stagione delle piogge rispetto alla stagione estiva perché durante la stagione delle piogge c'è moltissima acqua e le piante crescono molto. E questi posti sono conosciuti per la vegetazione, per vedere i fiori, le piante e per mangiare e in particolare per stare a temperature un po' più basse. Queste località sono prese d'assalto dai Filippini, dai locali. È praticamente una rimini o una riccione per i Filippini. Al posto di andare al mare, che comunque siamo circondati da 7.000 isole, vanno in montagna per rinfrescarsi, mangiare buon cibo e non stare con il caldo torrido che comunque c'è sempre nelle città o comunque nelle zone di mare, delle isole come Palawan. Qui fa sempre veramente tanto caldo, sia d'estate che durante la stagione delle piogge il caldo e l'umidità è sempre molto alta. Dopo questa breve introduzione della zona di montagna delle Filippine, del clima e quando è meglio venire per visitarle, parliamo adesso invece delle isole e delle zone di mare, che è alla fine la ragione per cui la maggior parte dei turisti vengono per visitare le Filippine. Sono zone come Palawan, Boracay, Cebu, Dumaguete, Bohol, queste sono le aree dove praticamente la maggior parte dei turisti vengono e vogliono visitare. Quindi, quando è meglio venire nelle Filippine e visitare questi posti? Adesso lo andiamo a vedere. Dobbiamo tener conto prima di tutto che la superficie delle Filippine è tanto quanto quella dell'Italia. La differenza è che l'Italia è una penisola praticamente tutta attaccata, mentre invece le Filippine sono più di 7100 isole sparse nel Oceano Pacifico. Quindi ci sono zone dove sono praticamente un po' più esposte ai tifoni, mentre altre zone dove non lo sono. esempio, la zona est delle Filippine è quella più esposta ai tifoni, è la zona dove c'è più pericolo di tifoni, che è praticamente la zona di Samar, di Leite, di Cebu, tutta quell'area lì, di Bohol, di Shargao, un'altra località molto famosa che è stata colpita dall'ultimo tifono d'Ette ed è stato praticamente distrutto tutto. quella zona che si affaccia nel Oceano Pacifico è abbastanza più esposta ai tifoni, mentre invece la zona ovest, quella di Palawan, dove siamo noi, nonostante siamo stati colpiti veramente in maniera brutta dall'ultimo tifone, normalmente è una zona dove non ci sono tanti tifoni, o comunque le temperature e il clima è abbastanza migliore rispetto alla zona est. Quindi la stagione delle piogge parte da luglio e finisce a novembre e dicembre. Si deve sempre fare molta attenzione ovviamente ai mesi di giugno e di dicembre in particolare perché sono i mesi che stanno praticamente per l'inizio e per la fine della stagione delle piogge. Lo scorso dicembre, il dicembre passato, per la prima volta è venuto un tifone potentissimo che ha distrutto tutta Shargao e tutta Palawan e non si era mai presentato nessun tifone così forte prima d'ora a Palawan ed è capitato purtroppo a dicembre. Quindi se eri qua a dicembre nel periodo natalizio, pochi giorni prima di Natale, ti trovavi con questo tifone sulla testa e sicuramente non andavi a passare il Natale più bello che potevi immaginare. Comunque se vieni nelle Filippine a dicembre perché hai le ferie a dicembre, devi considerare che comunque c'è una possibilità che potresti trovare piogge e purtroppo, visto l'ultimo anno, anche tifoni. Con questo non voglio dire che a dicembre non puoi visitare le Filippine, anzi, se devi decidere ad agosto o a dicembre, vieni a dicembre che il tempo è molto meglio perché la stagione delle piogge sta finendo e sta arrivando la stagione estiva. Quindi in particolare se vieni a Natale o a cavallo del nuovo anno, normalmente il tempo, in particolare qua a Palawan, è bello. Ovviamente non possiamo predire il futuro, non possiamo prevedere se sarà brutto anche l'anno prossimo, ma in generale dicembre è un mese che comunque puoi venire. Mentre invece sconsiglio altamente agosto, a meno che non ti vada bene e sei aperto al fatto che comunque verrai in un mese dove ci sono tante piogge e in particolare durante il pomeriggio, il primo pomeriggio, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, si presenterà la pioggia. Quindi il periodo migliore per viaggiare nelle Filippine è da gennaio a maggio. In questi mesi sarai sicuro di trovare caldo, sole e giornate senza pioggia. Ovviamente non per tutti è semplice venire in questo periodo dell'anno, dove qui è bello. Quindi se ti devo dare un consiglio, un ultimo consiglio, quando venire nelle Filippine a dicembre o ad agosto, ricordati, vieni a dicembre piuttosto che ad agosto. Perché se fai come me, la prima volta che sono venuto nelle Filippine qui ad agosto, ha piovuto tutto il tempo, sono stato un mese praticamente a Manila, rinchiuso in casa, perché non si poteva neanche uscire di casa. Invece sono tornato la seconda volta a dicembre, avevo trovato bel tempo, mi sono innamorato delle Filippine e poi ho deciso di venire qui, trasferirmi qui e vivere qui. Quindi spero che questo video sia di aiuto per chi mi sta guardando. Se avete commenti, domande, fatele qui sotto, scriveteli nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.